Deglia è tra i 24 comuni siciliani virtuosi per la raccolta differenziata, premiati per aver superato nell'ultimo trimestre del 2016 il 65%. Il sindaco Gianfilippo Bangeri è stato per questo motivo invitato dall'Ufficio Speciale Regionale per la raccolta differenziata a Catania il prossimo 6 aprile. Una premiazione in occasione del convegno rifiuti differenziata comuni virtuosi appalti ed emergenze, attualità e prospettive. Nell'ambito del nono salone internazionale Progetto Comfort al centro fieristico legiminiere. Il secondo anno di fila che delia tra i primi comuni in Sicilia a ottenere questo risultato. Indubbiamente raggiungere più del 65% a livello regionale è un risultato di tutto rispetto. Siamo contenti perché vuol dire che tutto il lavoro portato avanti durante questi anni è stato positivo per i nostri cittadini. Infatti ci sono stati mesi che abbiamo toccato anche il 78% di differenziata. Anche l'anno scorso l'Angi Sicilia e l'Ecoface avevano premiato noi come comune riciclone. Quest'anno l'ennesimo riconoscimento. Siamo i primi nella provincia di Caltanissetta e quindi siamo orgogliosi di questo risultato. Ma non ci fermiamo perché la nostra mission è quella di toccare l'80%. Indubbiamente è un lavoro che parte da lontano, da 3-4 anni a questa parte, con una comunicazione capillare che ha permesso ai cittadini e delle di cambiare forma Mendis nella gestione del servizio.